Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'autostrada A1 dove sulla variante di Valico ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPI lì adesso ci sono rallentamenti per lavori tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Si segnala che è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 64 Porrettana provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!